La società economica di Chiavari svela il prezioso mondo interiore del pittore Alberto Salietti. Visitabile fino al 7 aprile dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12, la mostra, i diari, racchiude gli schizzi e le opere dell'artista, considerato tra i protagonisti della vicenda figurativa italiana del primo novecento. Lui era innamorato di Chiavari, è venuto a abitare a Chiavari prima della seconda guerra e si è fermato fino alla fine, fino al 1961 quando è morto. Come mai i diari? Era solito dipingere e disegnare su questi diari e non su tele, diciamo, preferiva? Perché faceva proprio dei bozzetti. È lui che è stato a dare questo nome a questi suoi opuscoli di carta da disegno, chiaro. Nato a Ravenna nel 1892, Salietti si sposta presto a Milano, dove studia all'Accademia di Brera, ma metterà poi le sue radici a Chiavari. Tra il 1935 e il 1960, il pittore dedica gran parte del suo tempo a disegnare sui suoi diari dei racconti fatti di immagini e annotazioni sulla vita e sulla natura, sui luoghi e sulle persone che lo circondavano. Abbiamo tutti i disegni di tutti i diari digitalizzati e quindi stiamo facendo una proiezione dove le persone che vengono a vedere le mostra possono vedere tutti i disegni di Salietti, che sono all'incirca 2250 disegni. L'artista dedica grande spazio nei suoi lavori al paesaggio ligure e, in particolare, al Tigullio, con la sua amata Chiavari, dove visse fino alla fine dei suoi giorni. Nella mostra, in cui sono esposti 32 dei suoi 38 libretti, si possono ammirare vari scorci della Liguria di metà novecento, oltre a tante storiche città come Roma o Venezia. Sono venute tante persone a vedere la mostra e la cosa interessante è che alcune di loro sono state delle sue modelle, modelle ovviamente bambine, perché adesso hanno una certa età, però è stato bello vederle qui e sentire raccontare la loro esperienza proprio con l'artista. Un'esposizione coinvolgente che fa parte della rassegna L'Arte in Economica 2024, che punta a valorizzare il patrimonio artistico dell'ente per poi farlo conoscere al grande pubblico, così da promuovere la cultura e l'arte in tutte le sue forme.